qui sta al massimo 700 spett 698 d'ora una sub l'ho fatta eccolo qui Cyberlux hai visto ma secondo me non è worth una sub in 4 ore è worth il social Cyberlux è un vero socio la sua sub è worth alle 6 e 40 ti piatta una cecchinata ti ha fatto grazie Cyberlux sei un grande dio madonna ti dedico il mio Lucian è tutto tuo il mio Lucian casa Cyberlux questo sub del Cyber rimane come 30 sub è un grande Cyberlux grazie ma poi non l'avevo mai letto in chat ah thanks vedi come ti chiami Cyberlux sembra una ragazza da come aggagito è così questa frase un po' sessista te la faccio passare va bene ti perdono mila mila hai ragione Paolo cazzo c'è proprio l'occhio un fottuto predatore sessuale c'è proprio l'occhio non è tanto possibile no ma perché non ho mai visto in vita mia un ragazzo che scrive ragazzi tutti cazzo 30 anni col camioncino dei gelati davanti alle medie avranno fatto qualcosa dopo che nasce spegnite 3 o 4 in giardino ormai è pratico comunque questo game vi gioco Kaisa pezzo di predature oggi un altro sub minchia dovevo chiederlo prima allora misera è il socio mechie mechie 90 grazie mille king grazie per il sub socio Paolo è il half daddy di Twitch Italia non sei il primo che lo dice lo sapevo io lo sapevo vuoi smentire queste falsità su di te Paolo ma nemmeno per sbagli ma magari fosse il half daddy di Twitch Italia oddio ok socio due sub sono arrivate manda una classica pubblicità da 7 minuti di fila siamo a posto esatto i soldi l'abbiamo fatto classica pubblicità sono pato 3 sub 8 minuti di fila pips pips ha fatto 2 mesi pips tami bastava ricordarlo Paolo te non lo ricordi cioè non è colpa che la chat è colpa tua non lo ricordi grazie scusami ma come è possibile che vivi la tua vita così rompendo i coglioni agli altri è molto facile è molto facile vedo stai cercando un editor Paolo io gioco Jinx però mi sembra mi sembra una bella front lane Paolo ma sta cittadinanza in Turchia come procede vero comunque da un po' che non mi faccio la pelata dovresti insomma si vedono proprio quei peli ascellari che c'hai aspetta Giorgio come mi vedi mi vedi un bell'uomo Giorgia si sincera per favore anche lo zoom nella stream proprio eh lo zoom lo zoom lo zoom lo zoom beh 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 ecco adesso però mi sento un po' sotto pressione Paolo eh non devi fare così non c'è bisogno non c'è bisogno di mettere pressione tranquillo sono normale sei un tipo Paolo si chiamano un tipo quelli brutti sono un tipo sì dimmi un po' Giorgio che cazzo è un'onesta devi essere cioè da una a dieci mi vedi questa e dici ah puoi anche dire voto basso non ci rimango male ma già che non piange direi top ci devo pensare ci devo pensare io alla fine non sono una persona che va molto solo al lux cioè nel senso va molto non va cioè nel senso quando cerco i partner non guardo solo l'aspetto fisico cioè guardo principalmente se è Paolo è il tuo partner è vero è vero è vero è un voto da una dieci simbolica anche con più leggerezza Giorgio esatto va bene dai dai sette sette generosa mamma mia super gonfiata sette è proprio fuoco e sei fidanzata socia sì sì dai la bagniamo ragazzi cavolo beh non ti preoccupare Paolo non è geloso no nella sette scrive una sette su cento un po' generoso questo set non l'hai troppo convinta eccolo qua il nostro sette il nostro capitano un bel sette un bel sette madonna comunque dignitoso socia forco due ci siamo sopra su un bel sette socia io mi darei un bel sette più dai no veramente non ci allargiamo ha subbato anche Zenishu porca puttana la live mi ti bastava chiedergli un successone oggi grazie Zenishu un altro sub metti un sub goal a caso lo mettono tutti e funziona tipo a dieci sub mi scaccolo pensi a non fai dieci sub quattro sub e dico maronna Briz le fai in meno di un minuto le fa ho detto scaccolo ma è per dire in cinque ore come è possibile quando ho fallito in che giorno è successo quando è stato spannato Briz scusatemi ma Rosario Muniz Rosario Muniz cioè è il migliore poverino cosa volete contro Rosario Muniz non ho capito mi piace come è confuso Briz con Rosario Muniz questo Rosario mi rende molto gioio no ha letto ha letto in chat un ragazzo ha letto il commento no ragazzi la verità è il mio amore è Giuseppe Simone mamma mia l'ho detto l'ho detto mamma mia l'ho detto solo che non mi ci ha mai invitato al Bed & Breakfast di Neviano subito se no subito andati Giorgia si vede che sei una veterana si vede che è 30 anni quando sei nata Giorgia? eh nel 1994 pensavo intendesse il giorno o il mese guarda lì si vede che giochi a te lui ha un taccuino ha un taccuino per fare il predatore ma ragazzi abbiamo una buona front line perché mi sembra perché siamo un po' squishy Daniela ma aspetti questa roba c'ha un quaderno di regga sei squishy ma non ho mai predato nessuno che io sappia sei un po' senti Paolo finto buono Paolo oggi mi hai telefonato erano le 9 di sera ti ricordi cosa mi hai detto? cosa ti ho detto? hai detto vorresti fare una festa con tanto baby oil e invitarmi no tu mi hai detto tu potresti essere il puff daddy che mi stupra per lavoro e io ti ho detto sarebbe il mio sogno ah eh sì ragazzi ricordiamo di fare un po' di control però del tipo normale comunque è arrivato un'altra sub mannaggia la miseria dovevo chiedermi ci tenete certo Paolo se no ti pare stavano che a guardarti siamo contro Caps che stai dicendo? non ho scritto si chiediamo contro Caps ragazzi non è normale socio socio ma occhio ocio ho fatto un flex alle le 7 di mattina finita socio aveva bisogno un attimo un attimo bisogna di repillare il serbato io non ho detto mica lo vinco a livello 1 contro questo non credo però noi crediamo in te quindi non ce l'ha che poesia auto Q via vai via il sociolino anche lui così perdi così perdi sono curiosi ma mi ha vietato ma mi ha vietato hai usato la Q nel river ma no ti avevo detto auto Q e no comunque ti curi magari hai vinto lo stesso devi rimanere dove stai andando dove stai andando capito ti vuoi calmare e io sono veramente furioso guardami tiro tiro la testa ma che fanno disturbiamolo ma come si permettono io mi vado loro mi vado loro io sono veramente euforico no ma non posso oggi proprio revival mi hai ingraitato la troia però è messa male posso fare tre campi e venire top no 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 te la posso offrire solo perché sei te devi resistere tre campi ci resisti io faccio del mio meglio ballo però veramente così mi vizi se sei così aggressiva posso dedicarti un gank sei sicuro certo spero non abbia ward up ormai vieni comunque io ci sto andando io non ce l'ho oltre devi fare tu vabbè a flashà ho messo in un buono spot dai bot pareggio non ha il tp se c'è il tp ah no se c'è l'ignite lei c'ha l'ignite me l'ha già usato pure oddio se ce l'hai però io ho lignite si si può dare un bel vantaggio forse dovevamo pushare però no no bene così non ha nulla da comprare 12 minion e info jungle era penso sia il suo blu cioè al suo sì deve essere qua penso sia startato da qui visto che aveva invaso malamente lo vediamo è mid sta venendo da me no deve farsi vince ma se l'ha inculato il mio blu in realtà quindi bozza no era mio stai facendo il suo esatto penso che non so se riuscire a farlo è stato un nostro blu buff suo red e suo blu buff è top adesso pizze cancabile sì 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 il tipo mi ho l'innanz appena per moe quindi lo posso baitare facile pelosino 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 io sto arrivando quello che dice l'uolo pelosino cannone se non ho il flash però pelosino e qualcuno vuole avere bot gigantifica c'è il giangler ci abbiamo qui ti posso aiutare devo venire no perché perdono vuoi sì non venire non mi sono fermato il mio campo lo smite per non venire no nel segreto non è cresciuto non cazzo no sì sì sento io voglio tirare la con usciamo usciamo le con le ho no e' andata qua li puoi andare un forse danni no vabbè vado porco se stai ancora io chiudi cuore muro da che parte sta andando devi lasciare di qua ho illa prego dimmi che vinci eh flasha di là puoi provarmi in campo flasha così ah oh bel lavoro bellissimo danni però viene a dormire no no non perde il tempo sono quel gigante ti difende lei uscia forte si dice vorace non verace è una ruomini di lei veramente di 40 minuti abbastanza grave hai il cervello i riflessi di andrea occhi presidente non è una male questa ma io mi impegno per farvi ridere ragazzi voglio ancora una clip salvata ogni volta continuo a guardarlo e poi c'è lui e poi c'è lui e poi c'è lui possiamo fare 3 qui stessi c'è chi la mid bell'idea cazzo esatto non c'è il mid tutto quello che vuoi fare ti seguo lo facciamo è lo stato ottimo si vede il giunga il mio c'è eh il midi nemici non c'è quindi lo vinciamo sicuro con lo proprio qui vicino a te buona no? e poi la bozza vincente all'acqua è la cura e lo sì scusa un giorno mi dà un po' fastidio quando lo dici perché ricorda che io i pelli in testa non ce l'ho se poi smetterlo come no se che non ti do anche tu in testa non lo finisco non è vero è vero anche se ci giunga come non può saltare il muro con facilità se lo aspetta lo smartphone 8 seconde qua manca Riven da un po' di tempo non so se bel draft arrivo mid? volentieri ma ragazzi una critica stiamo smettendo di giocare per la bot il che va bene e non flash ma se che metti la fear sul tipo e abbiamo vinto così socio per la bozza per la bot arrivo potevo flashare potevo elare ok che il socio si impone di più però anche io avrei piacere ho fatto un gank top e uno mid adesso non mi piace sono trend ci manchi botlin ci manchi troppo arrivo di volte appena tornare ti sentiamo soli sei così pelosino bambino come ritorno ho visto bello flash l'uomo o bello tv per questa baldrata e' un periodo e' un'hp e' un'altra cosa questo cosa che hanno cambiato il bull pat della licea difficilissimo da fare 1200 in un bel che per fare la rotta il gioco ora il pt gioco foto con la Scusa Paolo Ma avevi la ulti Paolo? Ho la ulti o ho il mano? No prima No non ce l'avevo Non lo so Io ho visto che ce l'avevi ma Vi chiedo scuso perché anche io sbaglio Scusate perché in questo team non si può sbagliare Senza flash No ma figurati poi dico io che sei off tempo Hai tutto il mondo che la pezzi Tranquillo Non nessun problema Rilassati socio rilassati Dopo questa vado a casa Non c'è già la casa Paolo Stai tranquillo Allora non c'è nessun problema Tutti a clippare adesso Tutti a clippare la scena Ma sarà ulti Capito che Si faccio molto male Sono tantissimi Ma c'è un intero Alla ultima Cioè arrivo il cammino E ti pinco Trovo la scena Gli ultimi Buono Cammino come quelli Mi voglio morti Amica mia Un'auto 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 Bravo 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 Bel lavoro Capo E non può stare Come morivo È un bravissimo È rigiro Ragazzi La boss sta vincendo A breve stare Sentite quella mia frase Che tanto vi piace No no È sono grosso Faccio male Ma La domanda è Quanto grosso Abbastanza Incute le timore I miei avversari Anche perché Il grosso è sempre Un po' relativo Magari per alcuni Grosso è una cosa E per te Grosso è un'altra Devi dire quanto grosso Guarda che Dai va a fare Che sarà Uno dei ragazzi Più forti Con cui abbia mai giocato Lo stile Più migliore Del mondo Giorgia La Molisana Che vivi in Amsterdam Adams That's me Guarda Che ti guardo Mi Ci voglio Il tallo Io ho paura Ho paurina Di Viego Ecco Io devo Flesciare No Mi riflessi Alle 4 di notte Dio madonna Guarda qua Guarda il carving Ok Continua E pazzo E fa Io non ho capito A darti Perché il delivery Proprio Il socio Grazie socio Bill Gunk Dice Bella R Bill Gunk Proprio Raffinato Comunque Veramente Ragazzi Giorgia Io non faccio Molti complimenti Sei Incredibilmente Puntuale Affidabile E precisa Quello che vorrei Per un support Mi piace Grazie Mi sto emozionando io Chi l'avrebbe mai detto Quando iniziavo a giocare A league Ed ero silver E guardavo i tuoi video Che un giorno Avremmo giocato insieme E io complimenti Non li faccio nessuno Sono molto Me lo scrivo sul calendario Abbiamo fatto 5 ore Abbiamo fatto 5 ore di Intensive gameplay E Questi muovi Sono carica Sono carica Info jungler Era mid Sono mid Ok C'era la mappa Io faccio i rubis qua Lei era l'emoziano Comunque questa skin è troppo soddisfacente Prendere la QT sulla Che cazzo l'ha fattato Questo Non li faccio più Questo Sta chitaffando un po' troppe wave Sì per rompermi A me Sì Vabbè cazzo Su Ho perso Se Diana qui Sta arrivando post Sta arrivando anch'io Dov'è? Siamo a ritardo Era davanti al Drake Ok ok Cioè Mi avvisavo quando l'ho vista Dovrebbe essere senza ulti Se mi mettevo davanti per l'ultima Q Ci sono Non ti preoccupare Gioca Mi sa che perde Balla Non ho più mana Io l'ho ultima Spero di salvare Paolo Mi ho messo a Tori Mid Direi Worf Questo è un bel romain di merda Di questa puttana Ma dove c'è chi l'ha? Dio C'hanno fatto pure i void groups Però Mid Guarda il farm Che c'è questo Gran campione Di Non ne posso più Ma Va bene Non stai giocando male Sdrumox E non sto E sto vincendo Cosa stai giocando male E allora Perché ti va bene Io di Troia Va bene Va bene Bot cade Bot cade Anche Drake E arriva il drake Drip Top è Wixside 2v1 Ma il socio non gliene ha fatto un cazzo perché lui busta di lavoro Bravo socio, bravo Ma hai visto Mai visto bustare il suo Non snitch Socio Questo muore Bravo Eccolo qua Eccolo qua Mamma mia Troppo forte Troppo forte Drago è preso? No Va bene Dai Sì Sì Abbiego top è preso Bravo Corco il suo giungla per chiedere una mano Bella ulti Paolo Sì Se giochi così aggressivo una world decina Tocca metterla perché poi ti campi Arriva 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 Vengo meno anche io Con la ulti? Ah Ti farei a caponare la pelle Sena lo vedrai Con la cannone fa una next level Ulti c'è chinata mid A grifare l'herald Tassi Mamma mia ragazzi Posso avere un 22 alle 7 di mattina Di vocale Herald mid lo metto? Vai metti questo herald mid Dai Dai Ma siamo sacco Vai Ma tu con questo babbo di minchia E' pezzo con questo mali scanco Se parlo Che lo ultimo Che lo ultimo No Ragazzi Io non ho 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 E' una truffa di me Porca puttana Sono stato truffato Io non ti posso aiutare se la tua scappa e basta Oltre socio Guarda il seggio non ha paura di nulla e di nessuno Guarda Guarda E' vero che è affirabile Giorgia E' vero che non è affirabile Di chiudo Di chiudo Ma E' vero che è affirabile Guarda 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 Il Dio Re Il Dio Re Bello sta fresciazione Complimento Bonk 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 No so C'è pure due Fresh out Andiamo a prendere Riven Prendiamo Riven Che poesia Sarà andando a prendere Riven Arriva arriva Ciao a tutti Mi date l'assist se è possibile ragazzi No Il team diventa più unito se mi date l'assist Abbiamo dato pure la kill Ma va Ma l'avete fatta apposta? Io si Io si Io ti stavo ad attaccare Si si anche io Si davvero Purtroppo Ma va bene che non prendi le kill tu Dani Non le devi prendere tu Ma lui vuole cagliare A me piace E questo mi è chiaro A me piace questo spirito del gallo di Lambrate Lui vuole carriare da platino 4 del cazzo che è Eh Ecco Siamo Da puttana sono due munizioni Ti sparo a 10 volte Voraggio Verato Preparissimo Cosa ne pensi della Pepsi Giorgio La Pepsi? Sì No Sta diventando arancione In comune sposi Si faccia Per blu Ti stai dubbiando Di che vendeva Ti sta trasformando Ma poi senti che Sta peggiorando Ogni cosa che ti dice La Pepsi La Pepsi Allora cosa stiamo facendo Stiamo trollando La collega È basta Se vengono li ammazziamo Madonna quante word stiamo mettendo Ma ancora i lunari di Salerno Ma cos'è? Bella questa situazione Ma cosa fa Non è obbligato Giochiamo Giochiamo ragazzi Chi è che ingaggia Nel nostro team di merda No Bravo Verà come ti metti là Ma vedi fai tutti Vinci Flash eh Ti danni Due per due non ha vinto Comunque problema Poi aspetta un secondo in più Ma va Sei sempre perfetto Aspetta se aspettassero un po' Ma non aspettavo Ti ho diventato un arancione Non so l'arancione Ragazzi è la cirrosi È la cirrosi? Eh sì Dovrebbe essere gialla La cirrosi Dovrebbe essere più gialla È proprio una nuova Non è fatica forse Però c'è il medico Arancione poco Più giallo Però magari sei Per alcuni l'arancione Su una carnagione Un po' particolare C'è il giallo Su una carnagione In particolare Potrebbe risultare arancione Dici che è già giallo di su Cosa sta succedendo? Più giallo di bovino Un po' diventare Sono i raggi gamma Sei messo Ma è stato investito Da dei raggi gamma Sto lavorando Sulla mia mia colorita Ora è un po' più Simson Che pensavo Minion invece? Sei molto bene Così Paolo Grazie bro Ammazziamo Lulu Per favore Drake Stiamo giocando un po' peggio Rispetto a prima La collega No Addirittura Ma è palo Sera Bravo Bravo Bel flash Engaggi Sto perdendo la sanità mentale Va bene Va bene Basta dai 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 Occhè la ultidiana Io faccio video Io faccio Tancando Occhè la scuola Occhè la scuola Ma è il piano Ma non si può giurare il drag Occhè la scuola Occhè la scuola Oddio rega sono mortissima No Guarda che bello fv No grazie Prego Se lo aggro eh Balon Grazie Prego Così lo autosacchiamo prima Capito C'è Diego qua? No Baron Dove non possiamo andare a set al Baron Andiamo Senza di rollare Andiamo dopo Ma che ce ne fotte Guarda qui Cosa le sono messe Più c'altro è anche molto veloce Con Jinx Viego inta Non credo Vai Anca tu Vado io un po' O profondo Se Viego vinto Annascio Faccio zero danni Dungla senza smite Guarda l'altro lato che qua mi ha matto Via Possiamo essere felicissimi Hanno tippato Sta arrivando Dobbiamo fightare Jump point non è detto che perda Guarda 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 D'ultimo da ci da ce la fare Che è gare Che è gare comunque Del lavoro Perché quello me le range Se aspettiamo che lui faccia V E Siamo sicuri che il suo danno Entra a prescindere Noi che abbiamo tutte spell da lontano Il danno entra di sicuro Non ho mai Intentavo di focusare uno di loro Pensavo chiamassi il focus di uno dei loro Capito Ciao ragazzi Se vi vi lascio un abbonamento A questo canale Perché come vedete Con lo abito Una mattia gravissima Io pensavo Intendessi il fo Cioè quando uno chiamava qui Uno di voi Pensavo chiamaste Chi può usare Il tome con Garen Io no no Garen è il nostro compagno Io di solito Focuso sempre Sei il più vicino a noi Eravamo 4 contro 3 Il più vicino Ci andiamo Era Diana più vicino Siamo andati Però dobbiamo essere sicuri Che Se noi ingaggiavamo prima Il Garen non aveva tempo Di camminare fino al fight E allora La QE del Garen Non sarebbe mai entrata Dovevamo aspettare che Garen Ha messo i danni Quindi è lì Ma una merda Mi so stordito Io ho detto Garen Da spassare In realtà anche Garen vi ha messo i danni Alla fine È andata bene Esatto Ci siamo messi nascorso nel bash Abbiamo aspettato che venisse anche Garen In modo che Garen Che ha iniziato il fight In modo che il socio non sbaglia Non peraltro Non sbaglia Ma è Perini Soci Giocava per mid Io li buco tutti Non sapevo che succedeva Questa puttana Era leggermente lontana Altrimenti L'avrei bloccato Sono fortissime Prendere l'idea del gioco Diciamo sull'otto Aller Ma perché Amor si è spiegati E se è troppo forte Può essere Può essere O il socio è troppo forte Tutto nulla Social Oltre all'ingaggio Io rispetto Diana Omo pulizionamento Oltre all'ingaggio Ulti su Diana Occhio adesso Occhio adesso Ongaggio io Ho la zona Aspetta Diana 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 Vado prezzia Quello scoppia Cade torri Possiamo fight Mamma mia Diana Siamo sempre alla ulti app Flash riven Ciao su Diego Vediamo A voi Io ero mai scato Che voglio Sono ciò Grazie Di di Ci siamo rifatti Ci siamo rifatti Che game è stato Cazzo Con Fizzet È veramente troppo facile Il game Non dirmi così Il socio che mi Imbaracca Grazie per il subscribe Benvenuto Campione Io sono la verità Fammi da sempre Menor Ma che cazzo Succede ragazzi Non ti anoriamo Non abbiamo Il socio Guarda Sempre top damage Socio Guarda Impara Cazzo La mia Sempre top damage Social non so come fai Mi ha Mi ha onorato La lulu nemico Clicco io Anche a me Qualcuno dei nemici Mi ha onorato La lulu Anche a me Pazzerella È arrabbiata con il team Secondo me è arrabbiata C'è una Quella altra Ragazzi Mi state facendo paura Siete due In lobby Non siamo in lobby Giorgio Devi solamente Mettere di anche tu Ok vai Ci siamo appena Svegliati Giorgia Su Svegliati 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 Svegliati